A Pagani c'è ancora tempo per presentare domanda per i buoni spesa. Decisa stamane la riapertura dei termini fino a lunedì prossimo, quindi coloro che ne hanno i requisiti e non hanno fatto in tempo a chiedere il sussidio potranno farlo entro lunedì. La decisione stamane di concerto tra l'azienda consortile AgroSolidale ed il commissario Nicola Uricchio al quale è stata prospettata la situazione sulla base delle notizie in possesso dell'azienda consortile alla quale sono pervenute numerose segnalazioni di persone e nuclei familiari rimasti fuori perché non erano venuti a conoscenza in tempo o comunque non avevano fatto in tempo a presentare domanda. Resta ferma anche la possibilità di integrare le domande incomplete così come già annunciato nei giorni scorsi. Oltre la metà infatti delle domande presentavano omissioni o mancanza di requisiti. Intanto presso le attività commerciali convenzionate i buoni spesa sono già operativi. Sono in tanti che nella giornata di ieri hanno presentato i codici ricevuti per poter fare la spesa e per gli acquisti in farmacia. 70 euro a persona è la somma attribuita da AgroSolidale per i cittadini. Intanto questa mattina il commissario Uricchio ha incontrato a Palazzo San Carlo l'organismo di liquidazione che gestisce l'aspetto finanziario accertato il dissesto economico dell'ente. Individuato il percorso comune tra le due commissioni mentre l'approvazione del consuntivo 2018 per il quale la prefettura aveva diffidato più volte la precedente amministrazione comunale dovrà essere portato in consiglio comunale ma si attende il parere dei revisori dei conti. Per questo l'assise dovrebbe riunirsi entro la fine di aprile. Una mattinata intensa per il commissario prefettizio che ha anche incontrato tutti i responsabili di settore del comune per affrontare insieme le problematiche e le criticità dell'ente. Al vaglio la problematica della carenza degli organici comunali in primis quello della polizia locale per il quale è stata prevista l'ipotesi di una soluzione tampone ferma restando la richiesta del commissario prefettizio al ministero degli interni per una deroga alle assunzioni a termine per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il comune di Pagani infatti non potrebbe procedere ad assunzioni a seguito del dichiarato dissesto da parte dell'amministrazione comunale.